Quindicesimo compleanno per il Festival Avvistamenti, promosso a Biceglie presso il Laboratorio Urbano, 15 edizioni che hanno proiettato l'evento tra quelli di maggior richiamo in tutta la Regione. Avvistamenti compie 15 anni, un traguardo che sembrava quasi irraggiungibile agli esordi. Sì, in effetti se ci penso oggi sembra un po' un piccolo miracolo quello di aver raggiunto 15 edizioni. Fummo in qualche modo, ci fu un'idea che in qualche modo ha anticipato questa sorte positiva di avvistamenti, cioè quella del titolo. Nell'individuare il titolo di avvistamenti pensammo alla città che ha ospitato questo festival, Biceglie, il cui antico nome Vigilie significa appunto Sentinella, Sentinella per la collocazione sul mare, e quindi abbiamo recuperato questa vocazione all'avvistamento. Per noi avvistare significa guardare lontano, guardare lontano non solo dal punto di vista della distanza geografica, per le filmografie e le videografie che abbiamo scoperto e inserito nel programma di avvistamenti, ma significa anche guardare lontano nel tempo, cioè anticipare in qualche modo scelte future e soprattutto nuove tendenze nel linguaggio e nella forma del cinema che più ci piace e ci interessa. Invece quest'anno qual è la chicca da non perdere assolutamente? Beh, quest'anno sono quattro serate dedicate alla sperimentazione e al cinema d'artista. Abbiamo suddiviso il programma esattamente in quattro sezioni, ciascuno per serata. La prima è dedicata agli anni Sessanta, stiamo parlando ovviamente del video e del cinema italiano. Anni Sessanta, seconda serata anni Settanta, poi abbiamo accorpato Ottanta e Novanta nella terza sera e l'ultima sera del Trenta è quella dedicata agli anni Duemila che giungono fino ad oggi. Beh, qui c'è veramente da divertirsi, nel senso che negli anni Sessanta si fa i conti con quella che è stata quella che è stata la sperimentazione in Italia e ci si accorge che siamo stati pionieri anche nell'ambito video, nell'ambito artistico in Italia a partire già dagli anni Sessanta. Qual è invece il futuro di avvestamenti? Perché già si comincia a intravedere almeno un triennio altrettanto roseo. Aspettiamo l'esito della graduatoria del bando triennale regionale. Noi abbiamo presentato un progetto molto importante e molto ambizioso che appunto si articolerà nel prossimo triennio. Una volta che sapremo quello che è l'esito di questo bando a cui siamo stati ammessi come Cine Club, potremo essere un po' più precisi.